Questo è Minutaggio, lo show che in pochi minuti ti svegli segreti di videomaking e montaggio. Allora, ascolta, se sei un fotografo, non guardare questo video, mi odierai. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del tempo di scatto da un punto di vista fotografico. Come fa invece un videomaker a scegliere il tempo di scatto? Bisogna prendere in considerazione solo una formula, che è questa. Tempo di scatto uguale frame rate per 2. Questa regola è chiamata regola dei 180 gradi, ce ne sono due di regole nel videomaking dei 180 gradi, questa è la prima. Ma andiamo un attimo nel pratico, come faccio ad applicare questa formula? Facciamo finta che ho impostato il mio frame rate a 24 frame al secondo. E' un frame rate un pochino cinematografico. Allora, quello che devo fare è 24 per 2, ottengo 48. Molto probabilmente nella tua macchina fotografica non avrai un quarantottesimo di secondo. Quindi quello che devi impostare è il tempo di scatto più vicino. Ad esempio, nel mio caso, è un cinquantesimo. Questo valore ti permette di ottenere un blur. Questo viene chiamato motion blur. E' la scia che lascia il movimento ripreso dalla telecamera. Che è abbastanza carino, abbastanza... anche questo, un po' cinematografico. Meno videogioco, più cinematografico. Però tutte le regole sono fatte per essere infrante. Quindi che cosa succede se non imposto un cinquantesimo di secondo ma imposto un duecentesimo? Proviamo. Ok, adesso ho impostato un duecentesimo di secondo. Come puoi vedere l'immagine ovviamente è più scura e il motion blur che ottieni è questo. Come puoi vedere l'immagine è più definita rispetto al motion blur che si vedeva ad un cinquantesimo. Ritorniamo alle mie impostazioni. Quindi però che cosa succede se imposto un tempo di scatto che è più lungo di un cinquantesimo di secondo? Vediamolo. Adesso ho impostato il tempo di scatto a cinque secondi. Come puoi vedere l'immagine è bruciatissima e si crea questo effetto allucinogeno al massimo in cui il motion blur è esagerato all'ennesima potenza. Meglio se ritorniamo alla normalità. Ok, le droghe fanno male. Per dubbi o domande scrivimi qui sotto oppure su Instagram altrimenti fine lavorazione e le droghe fanno male.